ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video è un video dove vi farò vedere tutti i miei gel colorati di passioni unghie mi è stato richiesto da una ragazza da una mia iscritta lei si chiama per pronunciare il nome emma nince style e mi ha chiesto se facevo un video dove facevo vedere tutti i miei gel colorati di passioni unghie adesso sono tutti chiusi adesso era una intro per spiegarvi insomma che video dovevo andare a fare che video dovrò andare a fare poi comunque adesso li aprirò tutti così vi dirò sia il nome del gel e il codice insomma e che linea di passioni unghie almeno così può servire anche per chi acquista su passioni unghie se vi piace qualche colore insomma lo acquisterete poi e niente spero che i miei colori vi piaccia e vi lascio al video come qua ragazzi allora intanto vi faccio vedere una panoramica di tutti i miei gel colorati di passioni unghie eccola qua con la scatolina lì che vedete lì dove li tengo tutti ne dovrebbero essere 63 più o meno una roba del genere ve li faccio vedere così perché se no se vi faccio vedere che ne apro uno per uno e poi ve lo faccio vedere su tip durerà una vita sto sto video poi sinceramente non ho voglia di farvelo vedere così così già è meglio comunque li vedrete tutti anche tutti aperti su tip non ve li faccio vedere comunque alla fine è lo stesso anche stese poi l'avete visti mano a mano che facevo io le sue passioni unghie stesi su tip allora cominciamo subito dalla parte qua non l'ho messo in ordine né dei colori né di niente l'ho messo adesso così a cacchio l'ho aperto tutti insomma allora passiamo da questo qua casomai ve lo faccio vedere così a questo qui è poetico e della linea classica c 104 questo è uno dei nuovi che ho acquistato poi ho questo qui questo dovrebbe essere merlo merlo si merlo esatto eccolo qua questo della linea fast f 70 poi abbiamo questo che eva della linea classica c 109 poi abbiamo quest'altro grigio che il mood fast f 74 poi abbiamo questo qui bellissimo incantesimo fast f 44 ancora strano non ha richiesto nessuno è metà sede perché non ce lo faccio a stentare scusate dopo un po questo faccio vedere così eccolo qua poi abbiamo gioia che della linea classica c 96 poi abbiamo optical silver della linea chic a 102 questo me l'hanno mangiato i miei clienti guardate che roba è finito proprio infatti lo dovrò riacquistare poi abbiamo alba della linea classica c 107 poi abbiamo nudo classica c 17 poi abbiamo chianti classiche c 0 0 1 6 0 1 poi abbiamo charm fast f 75 mio colore preferito e poi abbiamo duquesa classic c 70 questa è la prima riga adesso passiamo alla seconda ecco lì 50 tu li faccio vedere per così a parte seconda ok allora ripartiamo dal primo tropicana metà fuoco classiche c 51 poi abbiamo trinidad p 0 5 questa della linea caribe si caribe poi abbiamo beatrice classiche classiche c 108 poi abbiamo bonbon fragola classic g 30 voi in caso se volete prendere i codici questi qui e della linea fermate un attimo stoppate in attimo il video e vi disegnate poi antigua caribe p 04 poi abbiamo magic blue chic a 92 questo qui quello per fare effetto che tai poi abbiamo chocolate fast f 68 poi abbiamo surf fast f 54 poi abbiamo coral red fast f 02 bel rosso qui abbiamo i due bianchi vedete questo qui è il pure white questo qui è l'artico e l'artico rimane più gese molto bianco gesso rimane poi abbiamo il quarto ricco che il fast f 50 poi passiamo alla terza riga eccola qua ok allora il mio dorato poison black della linea fast mette a fuoco f 16 poi abbiamo nocciola classic c 49 poi abbiamo il tulip fast f 57 poi abbiamo fucsia fluo classic c 42 delizia classic classic c 86 red carpet fast f 04 su cui pure le clienti hanno fatto una bella scorpacciata poi amsterdam no si amsterdam a 23 della linea chic poi abbiamo glamour pink fast f 36 poi meraviglia classic c 87 punch fast f 65 poi mimetico classic c 99 questo bellissimo il don perignon g14 della linea classic ok adesso passiamo alla quarta riga che è la penultima abbiamo un'altra duchessa con questo rimane un po più chiaro confronta con l'altro c 70 la linea classic mette a fuoco ok poi abbiamo blu di persia classiche c 34 bronzo flash classic c 63 red diva fast f 03 bubble gum fast f 56 ultramarine fast 53 molto bello questo anche tutti belli tutti belli poi abbiamo amber f 61 della linea fast poi abbiamo albicocca classic c 05 poi abbiamo smeraldo glitter classic g 01 poi abbiamo a capulco bellissimo questo chic a 28 fate che riflessi bello poi abbiamo chiaro di luna g04 classic e poi abbiamo blu ceno m10 della linea classic che questo va sull'ettonità del verde c'è di riflessi che va sul verde insomma poi passiamo all'ultima metto un po la luce qua alla quinta e l'ultima fila allora abbiamo brezza marina classic m34 poi abbiamo romance fast f 60 qui c'è un capello vabbè rimane lì dopo le vero ombra classic c 98 poi abbiamo persian green fast f 55 poi abbiamo daphne classic c 54 bellissimo questo colore petrolio poi abbiamo costa rica chic a 34 questo colore molto bello il bianco metal classic m04 poi abbiamo incanto classic c 85 poi abbiamo limitless fast f 51 questo è pure molto bello su un violetto micro brillantini unic fast f 52 bellissimo anche questo tutti belli rosso metal m13 metti a fuoco classic poi abbiamo grip fruit fast f 40 poi abbiamo argento glitter g10 classic questo pure è andato bello che via scarlet fast f 67 ecliss classic m32 e l'ultimo abbiamo il rosa fluo classic c 29 eccomi qua allora io spero che tutti questi miei colori vi faccio un'altra panoramica vi siano piaciuti emma fammi sapere sotto nei commenti caso mai qual è il tuo gel color preferito di questi che ho io di passione unghie e quello che ti piace di più insomma dopo mi direi tu sotto nei commenti anche se te ne piace più di uno insomma o se no quello che ti ha più attirato particolarmente e spero che vi sia stato utile sia te anche a tante altre ragazze per i vostri acquisti su passione unghie ecco così li vedete tutti su passione unghie che così oltre il codice che vi ho detto dopo ripeto casomai mettete stop il video prendete meglio il numerino il codice è tutto e per i vostri acquisti insomma su passione unghie per quanto riguarda i cel colorati niente spero comunque che questo video vi sia piaciuto se è stato così mettete il palice in su sotto al video commentatemi seguitemi su miei social e noi ci diamo prezzo al prossimo video ciao ciao